Grazie signor Presidente, ho ascoltato adesso l'onorevole Mollicone che per la verità, sorprendendomi, vorrei che avesse sorpreso non solo me, ha rivelato l'obiettivo di questa legge. Perché ad ascoltare le parole dell'onorevole Mollicone io ho capito questo, ma forse spero mi sono sbagliato, ho capito che il Parlamento della Repubblica sta legiferando contro lo specifico comportamento di un gruppo di persone. Ora, guardate che neanche nella legislazione speciale negli anni 70 in questo Paese sono successe cose come queste. Io penso che la relazione tra la democrazia e il conflitto sia ciò che più di ogni altra cosa testimonia la natura della salute o della malattia della democrazia. La storia di questo Paese è fatta di lotte, di conflitti che spesso e volentieri si sono misurati anche col rapporto tra legge, norma, legalità, sostanza e giustizia. Non vorrei dover citare nel centenario Don Milani per ricordare che il rapporto tra giustizia e legalità non è sempre e solo rinchiuso nell'interpretazione burocratica delle norme. Il movimento operaio in questo Paese ha conquistato i suoi diritti occupando le fabbriche. Non era legale. I contadini in questo Paese hanno occupato i campi dei latifondisti rivendicando dignità. Non era legale. Ma quelle scelte hanno costruito la democrazia di questo Paese, della Repubblica. E allora io credo che senza per questa ragione rifiutare di misurarsi con le scelte, con i comportamenti, col giudizio che si dà di un atto, l'ha detto la collega Ghirra. E' stata a Regina Celli, ha discusso con quei ragazzi per dire discutete, ragionate sulle forme di lotta. Stiamo parlando di danni dei quali nessuno è permanente. Perché vorrei che qualcuno poi anche con questo si misurasse, ci citasse un danno permanente. Perché anche la parola danno dovrebbe essere misurata. Non si tratta di banalizzare il tema anche delle regole, ma si tratta di interpretarlo in modo non esclusivamente panpenalista e burocratico. Perché questo è pericoloso per la qualità della democrazia. Grazie a che su intervenire l'onorevole Labbate. Titolo personale, un minuto, prego. Grazie a tutti.